Ragazzi siamo arrivati all'ultima puntata dei nostri video diari di Esle Flow We Championship e sono un po' triste, è stato davvero molto interessante raccontarvi e farvi raccontare da Luigi varie sfaccettature del mondo gaming. Grazie a Esle Flow We Championship e agli sforzi di un'azienda simile il mondo dei videogiochi è davvero un posto migliore, vero? Esatto perché l'argomento di oggi è proprio questo, videogiochi e finanza e in particolar modo come un passatempo per bambini e invece è diventato un'industria così importante in grado di attirare capitali non provenienti strettamente dal mondo gaming. Oggi come oggi banche, brand di moda, squadre di calcio o colossi della tecnologia hanno deciso di investire nel mondo dei videogiochi, quindi qualcosa che inizialmente era considerato merde da sfigati oggi invece è considerato cool e ha una fortissima attrattiva sulla cosiddetta generazione Z, cioè noi, i giovani. Visto che oggi parliamo di lavoro ho deciso di mettermi comoda con il mio Skype e andiamo a chiamare indovinate chi? Proprio lui, il nostro amico Luigi e vediamo un pochino se sa qualcosa di finanza ai videogiochi, anche se dubito ci sia qualcosa in ambito videoludico che lui non conosca. Sì, molto bene, compriamo, compriamo, compriamo se stanno impennando, perfetto. Crescita costante, economia in salita. No, no, quelle vendiamo, vendiamo sono fuori tendenza. Assolutamente, scusate una chiamata sotto, vi richiamo subito, perdonatemi. Oh, ciao Antonella. Luigi, sei in ritardo, avevamo la colla alle 11, sono le 11.05, lo sai che sul lavoro bisogna essere perfetti? Sì, scusa, mi stavo ultimando il PPT che volevo mostrarti proprio adesso, anche perché oggi, non so se lo sai, si parla di qualcosa di molto serio, si parla di soldi. Ora, soldi, non proprio, diciamo che volevo sapere come i videogiochi sono passati da essere passatempo per nerd al conquistare il mercato di massa. Ci è voluto molto, moltissimo tempo per convincere i grandi colossi ad investire sul mercato del videogames a lungo termine e in pianta stabile. Sony, per esempio, è stata una delle prime a muoversi in questo settore con la creazione della prima PlayStation, che poi, per la casa giapponese, in realtà si è rivelato un colosso che gli ha permesso di svoltare, cambiare pagina e iniziare una vera e propria impennata all'interno di questo settore. Ne abbiamo parlato nella puntata il cui argomento erano le generazioni di console. Lo avete visto? Se non l'avete visto, mi raccomando, andate a recuperarlo. Effettivamente l'azienda produceva elettronica di consumo e solo successivamente si è affermata come alfiere dell'industria. E non è la sola, non è la sola, anzi è in buonissima compagnia. Le World Final Championship di Gran Turismo, per esempio, sono certificate dalla FIA. Se non sapete chi è, la Federazione Internazionale Automobile, ovvero quelli che organizzano i mondiali di Formula 1. E sapete in collaborazione con chi? E' proprio con Sony che è supportata e sponsorizzata da Toyota, Michelin, Mazda e tanti altri brand automotive che hanno deciso di investire le loro finanze proprio nel mondo del videogame. Come la stessa ESL Flowey Championship, no? Flowey è un conto di pagamento innovativo e sostenibile che di certo non veniva usato per parcheggiare i tappi di Fallout, ragazzi. Ed è proprio grazie a Flowey che abbiamo organizzato questo torneo e anche questi video per portare un po' di cultura videoludica ai ragazzi che ci seguono. Oh Luigi però, anche un po' meno, cioè sei tutto ingessato, tutto serio, ti sei messo pure la giacca, cioè stiamo parlando con i ragazzi, smontati un po'. No, no, assolutamente Antonella, anzi, scusami, guarda mi sgancio la giacca perché mi sa che sono entrato un po' troppo nella parte con questo discorso della finanza e dei soldi. Ma tornando a noi, sai che quello che hai raccontato è qualcosa di raro e unico, soprattutto per l'Italia? È comunque un trend in forte crescita. Molte persone si stanno avvicinando grazie proprio a queste iniziative ai videogiochi e non parlo degli incalliti gamer o degli assitui frequentatori appassionati, parlo di semplici curiosi. È per questo motivo che i videogiochi oramai hanno un pubblico estremamente variegato che ha fatto sì che si innescasse una reazione a catena che ha portato perfino Louis Vuitton a costruire il trofeo di una finale mondiale di un videogioco. Louis Vuitton? Wow! Questa non la sapevo. Capite ragazzi? I videogiochi attirano le aziende di moda e molti brand di abbigliamento bestono i pro gamer, non solo gli sportivi. E chissà come sarà il futuro. Magari grazie alla realtà virtuale riusciremo a inserire all'interno dei videogames tutti questi brand di moda o simili, ma non più come pubblicità, ma come negozi con cui interagire. L'unica cosa che sappiamo ad oggi è che il mercato del videogames e la sua industria sta crescendo tantissimo e chissà dove potrà arrivare. Noi non vediamo l'ora di scoprirlo. L'unico dubbio che ho Antonella è che se inseriamo i negozi di moda all'interno dei videogames tu rieschi di passare tutto il tempo a giocare comprando borse. Ragazzi salutiamo Luigi che ci ha fatto compagnia in queste sei puntate aiutandoci a districarci in questi argomenti così interessanti. Grazie mille Davdas, sei stato davvero prezioso. Ma grazie a te Antonella e grazie a Flowey e a Sony per aver supportato questa splendida iniziativa che ci ha permesso di realizzare sei video di racconto sul gaming. L'applauso più grande però va a voi a casa che avete seguito tutta questa folle maratona. Vi lascio però con una domanda. Quante volte sono riuscito a morire giocosamente all'interno di questi sei video? Grazie a tutti e scrivetecelo qui sotto nei commenti. Che dire mi sento come quando finisce una vacanza non vorresti abbandonare quella sensazione di benessere e di rilassatezza e tornare alla vita di tutti i giorni. Questi video ci hanno tenuto compagnia per sei settimane e sui server di PlayStation e Slowey Championship hanno intrattenuto tutta la community. È stata un'esperienza fantastica e io spero di cuore che vi siate divertiti almeno la metà di quanto ci siamo divertiti noi nel crearli. Stay Hungry, Stay Gamer e mi raccomando continuate a seguire i social di ESL. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi voglio bene, un bacione, ciao!